Buongiorno era davvero sotto stress e anche in allenamento era chiaro che non era molto sereno. Ieri era meglio si è visto in campo. Oggi abbiamo un altro allenamento e domani mi aspetto il solito buongiorno concentrato. Sul pezzo andremo bene. Abbiamo parlato molto e non abbiamo preso una decisione istintiva. Ha valutato tutto e ha preso una decisione con il cuore. Ma anche con molto cervello. Sente che questa squadra può crescere di nuovo e ha datoso un'offerta di una squadra superiore alla nostra.